Benvenuti nello stand Venieri, all'Expo Edilizia di Roma. Presentiamo una palla gommata, si chiama 13-6-3, macchina totalmente idrostatica, equipaggiata con motore Perkins 6 cilindri, con 177 cavalli di potenza massima, 14.500 kg di peso operativo massimo. Una macchina di questa categoria può essere equipaggiata con una bandna standard 2,7 metri cubi fino a bandna maggiorata, fino a 4 metri cubi. Fermati, vediamoci.